Noi intraprendiamo oggi il cammino per il quarto congresso del SILP per la CGL, saremo su tutti quanti i territori da qui a due mesi, i nostri obiettivi sono quelli di stare vicino ai lavoratori e stimolare un ampio dibattito intorno ai temi della legalità e della sicurezza per contribuire sempre di più allo sviluppo migliore di questo paese in una chiave assolutamente democratica e volta ai principi costituzionali. Noi siamo tutti quanti impegnati in questo percorso che deve vederci sempre più vicino ai territori per privilegiare i lavoratori e gli sforzi di quanti si impegnano sempre di più per questa organizzazione sindacale, noi siamo confederali e pensiamo che i valori della CGL e del lavoro ci devono avvicinare sempre di più alla società.